amici di youtube bentrovati a marco liguori notizia shock filippo touretta è in grave pericolo in questo video sveleremo due articoli che ci raccontano cosa sta succedendo a filippo e soprattutto cosa potrebbe succedere nelle prossime ore vi ricordo che a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video amici di youtube in questi giorni stiamo parlando del caso giulia cecchettin ma nelle ultime ore la situazione si fa pesantissima difficilissima per filippo touretta sebbene nel video di ieri abbiamo dichiarato che filippo qualora venga riconosciuto l'infermità mentale potrebbe essere liberato la realtà della giornata di oggi 1 dicembre 2023 ci dice che filippo potrebbe essere a rischio di vita e voglio leggervi due incredibili articoli che ci fanno credere e pensare che filippo touretta sia in gravissimo pericolo leggiamo il primo filippo touretta isolato a rischio allerta in carcere lo cercano e soprattutto leggiamo questo incredibile articolo di oggi filippo touretta i privilegi in carcere la rabbia degli altri detenuti dopo solo due giorni già libri e con blocchi con i genitori amici youtube è evidente che nel carcere dove è detenuto filippo touretta ci sia malcontento e lo abbiamo letto nell'articolo di prima gli altri detenuti stanno cercando filippo ecco perché voci di corridoio di addetti ai lavori dicono che filippo touretta potrebbe essere a rischio vita e amici youtube scrivete nei commenti voi cosa ne pensate continuerò ad aggiornarvi nelle prossime ore iscrivetevi al canale ed attivate subito la campanella in alto a destra troverete il video di ieri in cui parliamo della rivelazione shock di giuseppe cruciani amici youtube grazie per l'attenzione io vi rimando al prossimo video